Ben ritrovati in studio con me un professore, il professor Vincenzo Zottola, primario del reparto di ortopedia e traumatologia dell'azienda ospedaliera Sant'Anna. Buonasera. Buonasera. Bene, lei oggi è qua per illustrarci anche un nuovo progetto di prevenzione per i malati di osteoporosi. Intanto chiarirei con qualche dato l'entità del fenomeno perché stando alle ultime cifre rilevate sono 3,5 milioni le donne in Italia che soffrono di questa patologia, un milione anche gli uomini che insomma non se la scampano anche se nell'opinione comune è considerata una patologia femminile, anche fisiologica con l'età soprattutto con il sopraggiungere della menopausa, il rischio di ammalarsi della fragilità ossea aumenta. Chiarirei un po' questi dati e soprattutto di che cosa si tratta. Ha già detto molto per la verità, però in effetti le cose stanno esattamente così, nel senso che tra le cause dell'osteoporosi, in momenti determinanti c'è per l'appunto la menopausa che è ovviamente di pertinenza del sesso femminile, però c'è anche l'età e quest'età ormai riguarda anche fortunatamente i maschietti che arrivano a delle età considerevoli e cominciano a rivaleggiare con l'altro sesso, almeno in questo senso. E poi il problema dei numeri effettivamente deve riguardare più il dramma che segue l'osteoporosi, nel senso che l'osteoporosi è una malattia tutto sommato silente, che non si dimostra, non si manifesta in nessun modo, soprattutto non dà dolore e quindi in questo caso non siamo consapevoli di soffrirne e diventiamo consapevoli di soffrirne quando c'è un evento fratturativo. Allora un dato che è drammatico, che dimostra la vera e propria epidemia, si può considerare in questo modo, sono le 100.000 fratture del femore in un anno che avvengono in Italia, maschi e femmine. Certo sono più frequenti nel sesso femminile, ma ce ne sono molte anche nel sesso maschile. È vero peraltro l'osteoporosi è un sinonimo così colloquiale, molto significativo, viene anche chiamata ladra silenziosa, perché agisce un po' così subdolamente. Poi di fatto magari una persona si trova a cadere a terra, a avere un incidente, a fratturarsi un osso e viene fuori che in realtà il motivo per cui è caduta non è che è semplicemente inciampata, ma di base c'è una fragilità ossea che però può essere combattuta, prevenuta, curata. Ladra sicuramente perché porta via qualche volta la vita, perché le conseguenze per esempio della frattura del femore, soprattutto quando non si riesce dal punto di vista organizzativo o anche dal punto di vista clinico ad affrontarle nei tempi giusti con le tecniche giuste, possono portare ai decubiti, ai polmoniti e quindi anche alla morte del paziente. Quindi può portare via la vita, sicuramente porta via anche certe capacità di autonomia che prima si avevano e dopo che è avvenuto un fatto traumatico, anche se questo fatto traumatico è trattato nel migliore dei modi, può portare via un'autonomia che prima uno aveva e poi non ha più con delle conseguenze familiari, oltre che personali, anche familiari e sociali molto rilevanti. Procurarla è comunque possibile e nell'ultimo opuscolo che avete diffuso anche tramite il sito dell'azienda ospedaliera, 10 più 1 consigli per non ricascarci, tentate proprio di suggerire un buon comportamento da mettere in pratica nella vita quotidiana, tutelandosi magari da eventuali incidenti domestici e poi tutte le pratiche per superare questo momento. Sì esatto, prima di tutto va a considerare, i piani sono due, nel senso che sicuramente i farmaci che oggi sono a disposizione della pratica clinica sono dei farmaci che si sono dimostrati molto efficaci nella prevenzione delle fratture e nel trattamento di un problema che è molto rilevante, cioè quando uno ha subito una frattura vertebrale o femorale che dir si voglia o anche in altri distretti tipo l'omero e il polso, allora può ricascarci, nel senso che può subire un nuovo evento fratturativo se non si premunisce con la terapia farmacologica. La terapia farmacologica consente di ridurre drasticamente questo problema, nel 70% dei casi trattando bene dal punto di vista medico questo tipo di patologia si può evitare di incorrere in un'altra frattura. E poi l'altro piano, quindi farmaci efficaci e medicina che adesso è adeguata al problema. Dall'altra parte devono essere posti in atto tutte le misure di prevenzione per non averle le fratture. E allora le misure di prevenzione, naturalmente contro l'età, il sesso, la menopausa, nulla si può fare. Però sicuramente si può fare sul piano delle abitudini di vita, nel senso di fare una vita salutare, con del movimento, assumere una dieta bilanciata e in questo modo assumere le terapie che ti sono state prescritte, per esempio quando uno ha una patologia neurologica che lo rende incline alla possibilità di fratturarsi cadendo più frequentemente di altri. E poi anche l'attività fisica, anche una ginnastica dolce, in acqua, qualche movimento ormonico consente di mantenere un equilibrio migliore e di avere la propria eccettività del proprio corpo e dell'ambiente che ci circonda e quindi forse cadere anche di meno. Quindi ci sono farmaci? Da una parte per la terapia e dall'altra invece tutte queste possibilità che devono intervenire sugli elementi che sono non fissi, insomma, eludibili. Ecco, proprio per quel che riguarda anche la dieta, diamo anche qualche consiglio così di integrazione? Beh, allora, ritornando forse alle origini, bisogna dire che questa osteoporosi corrisponde a una fragilità ossea, cioè corrisponde al fatto che il nostro scheletro meccanicamente non sopporta degli stress e dei traumi anche non rilevanti rispetto a quelli dello scheletro giovane. E questo è dovuto al fatto che lo scheletro perde i minerali, nel senso che lo scheletro ha uno scheletro, come se è giustamente, una sorta di trabeccolatura, di reticolo, di scaffol nel quale vengono contenute le proteine e i minerali. Questi minerali, che è sostanzialmente il calcio, viene a ridursi, cioè invece di essere apportato nel giusta quantità viene rimosso e non sostituito. Quindi il complesso di questo meccanismo porta a una riduzione della forza dell'impalcatura e quindi questo provoca, quando c'è uno stress, un agente dall'esterno la frattura dell'osso. E quindi bisogna, con la dieta, cercare di apportare questi minerali nella giusta quantità allo scheletro per cercare di mantenerlo solido sufficientemente. Il calcio viene contenuto nella dieta, nella dieta equilibrata, nei vegetali, in tanti prodotti. Diverso è invece l'apporto della vitamina D, che è l'altro pilastro dell'impalcatura, nel senso che la vitamina D regola questo apporto e rimozione del calcio nello scheletro. Quindi più ce n'è, più viene apposto calcio, meno ce n'è, viene portato via e non riepposto. E quindi la vitamina D purtroppo nella dieta si assume in quantità non sufficienti. Va integrata. Va integrata. Un bel modo per integrarla, non discutevamo prima di cominciare, è quello di prendere tanto sole e fare una salutare vita all'aria aperta. Che per i nostri concittadini, insomma, non è proprio così automatico poterlo fare. Però adesso si inizia la stagione, insomma, ci sarà occasione di far scorta di cammini. Ci sono persone che svernano in Liguria e in Marocco, si può fare anche così. E diversamente bisogna assumerla, ci sono dei prodotti preconfezionati di vitamina D sintetica che hanno lo stesso valore. Velocemente, qualche consiglio anche per la diagnosi, per non ritrovarsi proprio così sorpresi da questa patologia. È possibile fare una diagnosi? Il mondo accademico e anche le società dei consumatori, che poi sono le società dei cittadini, in sostanza, che si occupano dell'area medica, hanno prodotto un bel sistema che è quello di, che poi tra l'altro è facilmente fruibile in maniera informatica, che è quello di fare degli outday test personalizzati, nel senso sulla propria persona, in modo tale da verificare in che range di pericolo noi risiediamo e quindi dopo averlo verificato bisogna poi mettere in atto il meccanismo di cui parlavamo della prevenzione vera della frattura. Questo sistema è anche pubblicizzato da Stop alle fratture, che è un sito che propone proprio una serie di slide. Poi naturalmente, anche senza fare questo test, che pure sarebbe prezioso, uno deve rendersi conto che una volta superati i 65 anni di età, dopo essere stato in menopausa, si è citata della signora, si è avuto delle patologie purtroppo, purtroppo gravi di per sé, oltre che generatrici delle osteoporosi, tipo un tumore per esempio, anche operato e esitato in maniera favorevole, poi non so se ha un disturbo della tiroide, se è stato trapiantato renale, se è un diabetico importante, è tutta una serie insomma di patologie che inutili elencare, che sono patologie intercorrenti che favoriscono questa situazione. Allora lui sa che è a rischio e se sa che è a rischio deve fare una mock per esempio per determinare a livello del femore, a livello della vertebra, a livello dei polsi qual è la rerefazione del suo osso e dopodiché avvicinarsi a uno degli ambulatori che già sono presenti sul territorio che anche noi abbiamo istituito. Professore, io la ringrazio moltissimo per averci dato queste preziose indicazioni, ricordiamo anche il sito stoppalefratture.it, l'opuscolo pubblicato su quello invece dell'azienda ospedaliera Sant'Anna, la ringrazio veramente moltissimo. È stato un piacere. Tempo a nostra disposizione è finito ma torniamo come sempre domani, adesso vi lascio alla rubrica Il lavoro che vorrei e a tutte le informazioni di ETG.